Per un buon fai-da-te non è importante essere dei maicissi enormi, le cose essenziali sono due, una è un pizzico di buona volontà, l'altra è avere gli strumenti giusti e quelli li trovi qui da noi. Quello che andiamo a dimostrare oggi è che una cosa come montare un lampadario la può fare chiunque anche in casa, anche per chi muove i primi passi nel mondo del fai-da-te. Quello che dimostreremo brevemente è che è semplicissimo da fare. Facciamo finta che questo sia il soffitto di casa vostra e che vi dobbiate appendere un lampadario, quindi da qui c'è il foro da dove arriva l'alimentazione di casa. Ovviamente prima di cominciare a fare il lavoro è bene staccare il generale. Allora, qui abbiamo il nostro lampadario che andiamo a fissare. Ovviamente per il soffitto dovrete usare dei tasselli per il muro, mentre noi andiamo a usare delle visi perché questo è un pannello di legno. Questa è la staffa del lampadario che noi andiamo a fissare. Allora, questa è la staffa che poi terrà tutto il lampadario. Una volta fissata questa passiamo a fare i collegamenti elettrici. Allora, fare i collegamenti elettrici non è difficile perché come sempre c'è già nei nostri lampadari in vendita, sono già collegati i morsetti e quindi sono da collegare all'alimentazione che abbiamo a casa. Allora, ok. Generalmente in tutti gli impianti di casa abbiamo tre fili, di cui quello della terra è facilmente riconoscibile perché è sempre giallo e vede, non si può sbagliare mai. È importante per la sicurezza. Andiamo a collegare i morsetti dell'appalario. Per farlo basta avere un piccolo cacciavite a taglio generalmente. una volta sbucciati i fili vengono inseriti nel morsetto e abbiamo già finito di fare i nostri contatti elettrici. Adesso andiamo a fissare la parte del lampadario che si chiama rosone. Allora, l'altro lato. il lampadario è fissato. Ora andiamo a finire di completare il nostro lampadario. ecco qua. Ok, adesso mettiamo la lampadina. Noi vediamo se funziona tutto. Ho spento l'altra. Come vedete il nostro lampadario è stato montato. È stato facilissimo e velocissimo. Non ci sono voluti i muscoli di maciste per farlo. Tutti gli strumenti li potete trovare qui nei nostri punti vendita insieme anche a qualche buon consiglio.